Allora, operazione antidroga, quanta droga avete sequestrato? Allora, abbiamo sequestrato sette etti di cocaina. Diciamo che quest'operazione rientra in un'operazione di più alto impatto che la questura di Bolzano sta portando avanti con operazioni congiunte tra squadra mobile e squadra molante in quanto la sinergia fra chi fa controllo del territorio materialmente per strada e gli uffici investigativi sta portando ad ottimi risultati. Negli ultimi sei mesi sono stati sequestrati ad esempio 8.000 euro in contanti, 6,5 kg di hashish e tutto questo nasce da un'attività di pedinamenti, di attenzionamenti di tutti i soggetti che pian piano emergono all'attenzione della polizia qui su Bolzano. Questi soggetti chi erano? Questi due soggetti sono soggetti con le spalle precedenti di polizia ed è per questo che erano entrati sotto il focus della squadra mobile e qui è scattata subito un'operazione di vasti controlli di osservazione riservata che hanno portato poi all'arresto di ieri. L'arresto per uno dei due e la denuncia per l'altro. L'arresto per chi era l'affittuario dell'appartamento e quindi era nella titolarità della mansarda dove poi sono stati trovati non solo la sostanza stupefacente ma anche tutti gli attrezzi del mestiere quindi bilancini di precisione, involucri di nylon per preparare le dosi considerando che poi altre dosi erano state trovate in un altro locale sempre dell'abitazione per la precisione del bagno. Questi soggetti erano già noti alle forze dell'ordine? Erano tutti già noti. Come vi dicevo rientra diciamo che il nostro modus operandi in sostanza consiste in un ampio raggio di selezione dei soggetti di interesse una volta che sono stati individuati iniziano poi controlli coordinati a tappeto quotidiani e che vedono impegnate non solo gli stessi agenti della sezione narcotici ma anche con l'ausilio degli operatori di controllo del territorio. Sul mercato la droga sequestrata quanto valeva? Beh consideri che un grammo di cocaina sono 70-80 euro di base quindi diciamo che è una... considerando poi che anche il principio attivo perché uno degli argomenti di cui si parla poco è anche il principio attivo perché questo è un principio attivo ad esempio dell'83% che raramente è stato registrato a Bolzano e che quindi permette poi di tagliarle, di avere il quadruplo quindi non sono semplicemente 700 grammi ma andrebbero moltiplicati per quattro per rendersi conto di poi quella che è la droga che invade il mercato a quel punto. La massata era il luogo dello spazio e il cliente era il luogo? No, no, era solo il deposito. Clientela? Beh la clientela comunque questa è clientela diciamo comunque adulta nella misura in cui visti i costi che ha la cocaina è chiaro che non è alla portata di tutti insomma.